Grande successo per la serata delle fonti awards tenutasi lo scorso mercoledì 8 maggio a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo HR 4.0, il futuro del lavoro tra innovazione e capitale umano, moderato da Deborah Rosciani, giornalista di Radio 24 e di Le Fonti TV. La serata è proseguita con la cerimonia di assegnazione dei premi che aveva come focus il mondo delle risorse umane e del diritto del lavoro. Boutique di eccellenza dell'anno, contenzioso diritto del lavoro. Vince il premio Studio Legale Lavizzai. Eccoli che arrivano, salgono sul palco in tre, leggiamo la motivazione per l'abilità e l'efficienza nella gestione di ogni tipo di contenzioso gius lavoristico. In particolare per la visione pragmatica e lungimirante, la professionalità e la specializzazione dello studio, contraddistinguendolo a livello giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto del lavoro. Complimenti. A Elefonti Awards siamo in presenza di Gianluca Lavizzari, founding partner dello studio legale Lavizzari, che ringrazio per essere qui con noi. Grazie a lei. In tema di licenziamento disciplinare, dichiarato illegittimo, si nota ancora qualche incertezza interpretativa in merito alla tutela applicabile. Io le chiedo, quando si può parlare di reintegrazione e quando invece di tutela meramente risarcitoria? Dunque la tutela reintegratoria è stata molto circoscritta dalle riforme legislative, dalla legge fornero in avanti. La razza del legislatore era quella di abolire, comunque ha circoscritto la tutela reintegratoria. Attualmente, se vogliamo parlare del caso più classico, la legge stabilisce che il licenziamento dichiarato illegittimo non dà diritto alla tutela reintegratoria in caso di insussistenza del fatto contestato. Il problema qual era? Era l'interpretazione del concetto di insussistenza del fatto. Per cui la giurisprudenza ha sostanzialmente superato l'intenzione del legislatore intervenendo con un giudizio di proporzionalità. Quindi il fatto dichiarato sproporzionato rispetto alla contestazione dava luogo alla tutela reintegratoria. Adesso la giurisprudenza da 2007 in avanti ha molto circoscritto la discrezione, la discrezionalità del giudice. Quindi sostanzialmente eliminando dal concetto di insussistenza il giudizio di proporzionalità. Quindi se un fatto sussiste, la tutela spettante al lavoratore dovrebbe essere la tutela veramente risarcitoria. Ecco, lei accennava proprio della legge Fornero. A proposito di legge Fornero, con la legge Fornero prima e poi con il Jobs Act in seguito si è assistito al tentativo da parte del legislatore di ridimensionamento, ridimensionare la discrezionalità del giudice che dichiari illegittimo il licenziamento. Oggi all'esito della nota sentenza della consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle tutele crescenti. Che situazione si è creata? L'intenzione del legislatore era assolutamente chiara. Intervenire sulle conseguenze che ormai erano patologiche del licenziamento dichiarato illegittimo che prevedeva la reintegrazione e un risarcimento del danno che non era quantificabile, nel senso che dava diritto al lavoratore reintegrato alla retribuzione persa dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, che poteva avvenire anche all'esito del terzo grado di giudizio, quindi dopo anni, è intervenuto pesantemente, innanzitutto contenendo nei limiti massimi il risarcimento spettante. Addirittura con il Job Act prima e con il decreto dignità in seguito, ha stabilito addirittura un criterio oggettivo a cui il giudice era tenuto ad attenersi, cioè il risarcimento del danno era commisurato all'unico criterio della anzianità aziendale. Quindi per uno stesso fatto dichiarato illegittimo un lavoratore con un'anzianità di un anno riceveva un risarcimento clamorosamente inferiore rispetto a quello che aspettava un lavoratore con un'anzianità di tre anni. La consulta dichiarato illegittima l'applicazione di quest'unico criterio e quindi si è tornati sostanzialmente alla discrezionalità del giudice. Il giudice non è più un mero contabile, ma stabilisce tra un minimo e un massimo che comunque sono determinati per legge, in che misura il lavoratore debba essere risarcito a prescindere dall'anzianità o comunque senza tener conto di quell'unico criterio che il legislatore aveva ravvisato nella anzianità aziendale. Continuando sempre a parlare naturalmente di licenziamento illegittimo, in caso di tutela risarcitoria per la quale la legge prevede attualmente una forbice molto ampia dai 6 ai 12 o tra i 6 e i 36 mensilità, qual è a suo parere il criterio che il giudice dovrebbe applicare nel determinare la misura del risarcimento da accordare al dipendente illegittimamente licenziato? Nella pratica succede che il criterio di cui i giudici tengono conto è comunque almeno in linea principale il criterio dell'anzianità aziendale. È chiaro che un lavoratore con un'anzianità importante viene risarcito a parità di situazione in maniera superiore a un neoassunto. Essere questo automatismo però non va bene, secondo me non va bene perché si arriverebbe a porre il datore di lavoro in una situazione di possibile arbitrio. Io datore di lavoro se dovesse essere applicato quell'unico criterio dell'anzianità potrei scegliere di licenziare tizio perché ne ha assunto rispetto a Caio perché rischio di meno. Quindi secondo me il criterio quantomeno concorrente è quello di valutare il livello di ingiustificatezza del licenziamento. Un licenziamento clamorosamente ingiustificato dà diritto a prescindere dall'anzianità a un risarcimento maggiore rispetto a un licenziamento, diciamo così, borderline. Ecco questa sera anche durante il suo summit si è parlato ancora una volta di industria 4.0. Io le chiedo come le nuove tecnologie digitali da un lato, se è vero, che stanno creando, anzi fanno temere la perdita dei posti di lavoro e dall'altro però creano delle nuove opportunità. Io le chiedo come cambierà il mondo del lavoro e quindi anche il diritto del lavoro alla luce dell'industria proprio 4.0? È difficile poterlo prevedere. È chiaro che è una situazione in un certo modo sconvolgente, è una nuova rivoluzione industriale, non si sa a cosa si potrà andare incontro, cambia il mondo. Cambia il mondo, dovrà cambiare sicuramente il diritto. Dovrà cambiare il diritto e il diritto dovrà sicuramente cucirsi intorno alla situazione che si creerà. Certamente si perderanno posti di lavoro, nel breve periodo sarà così per forza di cose. Forse nel medio periodo invece, come è successo già in passato, non sarà così. Una situazione positiva che si può già vedere adesso è per esempio la delocalizzazione. Adesso le aziende sono quasi costrette a delocalizzare e con l'industria 4.0 si è già visto per esempio il caso di Adidas che dopo 20 anni di delocalizzazione ha riportato la produzione in Germania. Perché? Perché corre meno mano d'opera, i costi della mano d'opera incidono di meno e per cui potranno nascere delle opportunità secondo me notevolissime, alle quali però il diritto del lavoro dovrà sicuramente adattarsi e dovrà essere molto più snello, molto più sensibile alle situazioni e non come è stato per anni inchiodato a dei concetti veramente antistorici ormai.